Maggio 1945, la guerra è finita. Dopo la liberazione, dopo la fine della guerra eravamo tutti pionieri. Ne pareva di aver fatto le lotte partigiane, ma non c'entrava, ma ci divertivamo. Quella sala, quell'edificio è stato costruito negli anni 48-49, in quegli anni lì. La ressa della gente che veniva, lui diceva Stasera avevamo i cavai che corre i pistoli che sbarano. Scene dei film che erano più famosi, meno, ma sempre tanta gente. Quella volta era una galeria, una balconata, le gallerie alla parte, la sala cinematografica. . 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 Era giorno e notte a disposizione, aprire la sala, chiudere, spegnere, far baruffare con la mularia che eravamo dispettosi, se fosse anche dispetti. Anche via col vento ho visto buia e penso. Via col vento. Era una roba incredibile, gli eventi di tutti i paesi. Era un spettacolo. Era una roba più importante, ma non era una roba più importante, perché siamo stati liberati. La compagnia, le feste, le compleanni, funzionavano, la armonia. In questo modo, il cinema è stato un grande, grande parte della vita, in questo tempo. Grazie a tutti.